Buona giornata e bentrovati alle daily news di Mr. Gadget. Ho davanti a me un BlackBerry Z30 che sto testando in questi giorni. La notizia del giorno potrebbe essere che se questo telefono fosse uscito qualche mese fa, forse oggi BlackBerry sarebbe in condizioni diverse. Ma non è questo di cui parlare oggi, è una deviazione dal percorso. Nexus 5, ritornano i rumors. Intanto oggi Google ha programmato un evento in Israele ma non sarà molto probabilmente dedicato a quello che noi aspettiamo, ovvero l'ufficializzazione di KitKat Android 4.4 e di Nexus 5. A quanto pare però i telefoni stanno ormai per arrivare, stanno apparendo foto da ogni dove con disponibilità di telefoni ormai imminenti. In particolare si è visto un magazzino di Carphone Warehouse che avrebbe 1500 unità bianche, 1500 unità nere pronte alla distribuzione. Un sito olandese invece ha pubblicato il telefono con la versione più potente a 459 euro, quello da 32 giga. Vedremo quali saranno poi eventualmente i prezzi da noi in Italia. L'aspettativa è di un prezzo molto più basso, ma ho l'impressione che questa volta potrebbe essere disattesa. A proposito invece di previsioni e di risultati, ieri Morgan Stanley ha pubblicato una previsione di vendita di HTC per il quarto quadrimestre, quello praticamente che noi stiamo vivendo, del 2013, con una contrazione delle vendite di un ulteriore 34%. È veramente un periodo durissimo per HTC che deve risolvere un problema non tanto quello della costruzione dei prodotti, ma della percezione degli utenti. Credo che sarà una battaglia veramente difficile. Al contrario invece, ieri pubblicati i risultati dell'ultimo quadrimestre fiscale, per Apple si chiude il quadrimestre fiscale l'ultimo, il 28 di settembre, pubblicati i dati e i risultati economici che sono davvero eccellenti. Più di 37 miliardi di incassi, ma soprattutto un numero mostruoso di iPhone venduti, 33,8 milioni, 14 milioni di iPad che sono in linea con quanto successo in passato, 14,1 per l'esattezza, e azioni che arrivano ad un prezzo di 8,23 dollari per azione, più alto di quanto avevano previsto gli analisti che avevano fissato un prezzo intorno a 7,93. Insomma, tutte robe tecniche per dire che nonostante i pareri di molti, Apple comunque è in buono stato di salute, denuncia delle debolezze solo sulla vendita dei computer, che insomma non hanno risparmiato anche Apple nel momento della crisi della vendita dei desktop e dei notebook. Questi dati comunque li approfondiremo a breve. Ufficiali in Germania, disponibile il Galaxy S4 con Snapdragon 800 e in questi giorni, ufficialmente in via di distribuzione ovunque, anche Android 4.3, proprio per Galaxy S4. Questo e altro su MrGadget.net